Ben trovati a tutti, buon pomeriggio. Si può avere tutto subito? Questa è la domanda che faccio a voi in relazione a quanto la Juve sta facendo. Noi abbiamo giocato 5 partite in campionato, ne abbiamo vinte due, ne abbiamo pareggiate tre, Empoli, Roma, Napoli 0-0. Non abbiamo subito gol e abbiamo vinto in Champions, anche bene, convincendo. Però continuo a sentire pareri del tutto negativi su quello che è lo stato attuale. Forse è troppo presto per trarre o per, come dire, imbastire processi piuttosto sommari rispetto a quanto abbiamo visto. Facciamo qualche considerazione di Massimo. Intanto credo che l'erbavoglio non esista nel Giardino del Re. Dobbiamo fare, come dire, dobbiamo tracciare una linea molto, molto netta fra quella Juve precedente che conosciamo bene e sappiamo quante storie e quante ingiustizie ha subito e quante traversie ha subito e senza attribuire responsabilità sempre e solo a un uomo solo, perché non è così, è questa Juventus. Abbiamo sentito il criterio su cui si basa questa squadra, la sostenibilità. Però mi riferisco a quelli che vorrebbero tutto subito, che vorrebbero l'erbavoglio, che non esiste neanche nel Giardino del Re. Allora, sostenibilità. Noi abbiamo la rosa meno costosa dell'anno precedente. È indubbio. un monte in gaggi meno costoso del precedente. Restano da, come dire, risolvere le questioni Vlaovic, la questione Vlaovic, che è un problema anche in campo, mi pare di capire. E abbiamo un allenatore che costa meno del precedente. Però abbiamo una rosa con degli ottimi giocatori che non sono ancora dei campioni. C'è stata una spesa importante per Commeiners, su cui è in questo momento chiaramente sospesa la valutazione, perché non l'abbiamo visto ancora. Abbiamo un Douglas Lewis che ha giocato poco, però stiamo entrando in questioni di campo relative all'allenatore che dovrà risolvere. È un problema dell'allenatore questo. Abbiamo visto dei giovani che ci hanno sorpreso. Calulu, per un tozzo di pane. Altri, no? Mangula. Li conosciamo. Abbiamo per forza di cose dovuto, come dire, basarsi sui giovani in questo momento. E devo dire che Tiago Motta, che è l'unico di respiro internazionale, ha rischiato e messo in campo. Questi calciatori non sono ancora dei campioni. Sono degli ottimi calciatori. Potrebbero diventare dei campioni. E auguriamo naturalmente, no? Soprattutto a Kenanildiz. Ma non lo sono ancora. E quindi è una Juve d'azzardo, di rischio, totalmente diversa dalla precedente. Ora, alla luce di questa sostenibilità, quindi ho detto Rosa meno costosa, Montaingaggi meno costoso, allenatore meno costoso, giovani che sono stati lanciati, perché dovremmo pretendere di avere immediatamente un risultato senza dare il tempo a Tiago Motta di, come dire, concretizzarlo questo, risolvendo i vari problemi. Non abbiamo speso più delle altre volte. Abbiamo cambiato. E questa è una cosa diversa. Ma se io domani comincio a produrre qualcosa di nuovo sul mercato, non posso pretendere di essere in cinque mesi, tre, quattro, cinque mesi, un'azienda leader. E quindi bisogna farlo questo tipo di ragionamento. È una Juve giovane, nuova, che ha investito parecchio su alcuni calciatori, ma che comunque deve ancora essere, come dire, modellata completamente. La pretesa di avere tutto e subito, perdonatemi, non sta in piedi. Non è che siamo andati a prendere Alland, calciatori che non avremmo potuto permetterci. Non l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto e speso sulla base di quello che è entrato. Ma questo è stato un criterio ben chiaro sin dall'inizio. Non si scialacqua più e si spende a seconda di quanto arriva. E allora perché noi dobbiamo, e mi riferisco a quelle persone che ti dicono è il minimo di vincere lo Scudetto. Sulla base di cosa? Perché l'allenatore è nuovo, ma costa meno di quello di prima. Perché la squadra è più giovane, tenendo presente che abbiamo una rocciosa difesa, ma la difesa arriva da prima, no? Bremer, Gatti, Cambiaso, insomma, arriva da prima. Erano già lì questi, indiscutibilmente. Però non credo sia fondato il ragionamento questa Juve è nuova e deve vincere per forza. Perché se qualcuno dice che abbiamo speso due volte tanto rispetto a prima, allora può darsi di sì. Poi i progetti vanno attuati. E vi faccio questa domanda. Se pareggiamo col Genova? Allora questa è una bella domanda. Vlaovic, punto interrogativo, penalizzato secondo me dal modulo, ma è una mia opinione personale, perché io esprimo sempre e solo opinioni personali, e quindi assolutamente discutibili. Se pareggiamo col Genova cosa succede? Senza appello. Può starci. Allora apriamo un altro processo sommario. Io credo che questa Juventus totalmente nuova debba avere il tempo per concretizzare un progetto di gioco e di filosofia di gioco che Tiago Motta sta almeno nella sua testa portando avanti. E li saranno poi questioni di competenza di Tiago Motta. Noi possiamo per forza di cose solo attendere. Però io lo dico senza la frenesia di dire ora dobbiamo vincere per forza. Perché secondo me questo ragionamento, vista il solco netto con la Juve precedente, oggi non ha più senso. Ma neanche se avessimo speso di più avrebbe senso. Ma visto che siamo stati sostenibili dall'altro, secondo me va dato il tempo dovuto. Io so che c'è qualcuno che non vede l'ora che questo progetto Naufraghi però potrebbe poi dare anche qualche alternativa o pensare a qualche alternativa. È stato un azzardo e vedremo quello che sarà in futuro. Adesso è troppo presto. Ci vediamo. Grazie a tutti.